Siamo qui con Saud Al-Faisal, nuovo pilota di RT Motorsport che oggi ha provato per la prima volta a Varano e gli chiediamo un po' le impressioni della piazza. Com'è il giorno di oggi? Oh, è stato molto bene, è stato molto difficile in Varano. Abbiamo avuto delle chicane e delle piccole, ma è molto bello. L'unico che non avevamo la piazza, quindi è bello. Questa è la prima volta a Varano? Sì, la prima volta. E ti piaceva la piazza? Sì, molto piccola ma molto bello. Molto bello. Ok. Quali sono i tuoi obiettivi per questa prossima settimana? Beh, sono riuscito con l'ARP e stiamo facendo la C3 Open Championship. Quindi l'Europa Open. E spero di migliorare questo anno. Per migliorare più e migliorare. E magari potremmo prendere qualche podium. Grazie. Siamo felice e buona carriera in avanti. Grazie. E spero di vedere te qui in Varano. Grazie. Ok, bye bye. Bye bye.